Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione di TRM H24. In apertura in primo piano c'è la coronaca, una macabra scoperta che arriva da Margherita di Savoia. Un cadavere in avanzato stato di decomposizione con un foro sul cranio è stato ritrovato ieri sera da un gruppo di ragazzi in zona Porto Canale. Stando alle prime informazioni raccolte il cadavere potrebbe appartenere a un uomo alto circa 1,70 m. Non ci sono altri dettagli emersi finora. Sul ritrovamento infatti indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Foggia. Dai referti autoptici dipenderà anche la definizione dell'ipotesi di reato per cui procedere. Sul posto oltre ai carabinieri della compagnia di Barletta sono intervenuti i militari del SIS, la sezione investigazioni scientifiche. Cambiamo ora argomento, torniamo a occuparci del caso migranti sbarcati ieri nel porto di Bari. Sono 29, la maggior parte arriva dal Sudan, una zona in questi giorni colpita da forte instabilità. Sentiamo. Ha attraccato alle 9.20 nel porto di Bari dopo due giorni e mezzo di navigazione la nave Ocean Viking con a bordo 29 migranti tratti in salvo mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa. In base a quanto riferito dalla ONG o SOS Mediterranea Italia, i migranti quando sono stati soccorsi in acque di competenza maltese erano in navigazione da 5 giorni su una imbarcazione in vetroresina. Nonostante fossero a conoscenza della situazione, ha scritto SOS Mediterranea sui social, le autorità marittime non hanno soccorso le persone lasciate in balia di tutti gli elementi meteo in peggioramento. A Bari le operazioni di sbarco si sono svolte senza intoppi. Non ci sono problematiche particolari anche dal punto di vista della salute dei migranti. Forse un minore dovrà essere controllato in ospedale, potrebbe essere politraumatizzato, adesso i medici verificheranno, però in generale le condizioni sono buone. Non passeranno dal CARA ma dopo tutti i controlli di rito saranno accompagnati alle destinazioni loro assegnate. Resteranno in Puglia, tra le province di Foggia e Taranto e i due minori andranno a Brindisi. Da dove vengono? Sono bengalesi e due sudanesi. Tutti maschi? Tutti maschi, sì. Abdel Fettamo Ahmed è un socio di SOS Mediterranea Italia in Puglia, in porto, e arrivato per un gesto di accoglienza. Tutti vogliamo pensare al futuro ma tanti pensano a sopravvivere. E venire qui è un tentativo di sopravvivere più che un tentativo di ricerca di un futuro migliore, come si pensa. La maggior parte dei 29 arriva dal Sudan per sfuggire alla guerra. Sicuramente il Sudan è dove ci sono almeno 9 campi di profughi, dove sono nato anche io da rifugiato. E quindi un paese che accoglie milioni di rifugiati. Oggi purtroppo, come sappiamo, c'è una guerra. E tra l'altro vorrei ricordare che queste milizie che stanno facendo la guerra sono state finanziate dall'Europa con un accordo, c'è un accordo tra l'Europa e questo governo, dove avevano il ruolo di fermare i migranti. Oggi la conseguenza è che arriveranno di più. Cambiamo argomento, farmacie cardioprotette. A Taranto è stata presentata l'iniziativa del gruppo Aliot alla presenza del sottosegretario Gemmato. Un defibrillatore all'interno di ogni farmacia per garantire ai cittadini un luogo sicuro dove trovare risposte immediate a ogni tipo di esigenza. È l'obiettivo del progetto Farmacie Cardioprotette promosso dal gruppo Aliot, i cui dettagli sono stati presentati a Taranto con l'intervento del sottosegretario alla salute, Marcello Gemmato. Grazie alla collaborazione del SIS 118, i punti salute interessati dal progetto sono diventati farmacie cardioprotette, poiché l'intero gruppo dei collaboratori ha frequentato il corso BLSD di farmacista soccorritore. Ciascuna sede è stata dotata di un defibrillatore. In un momento in cui c'è crisi di personale sanitario, c'è difficoltà di accesso alle prestazioni, si può immaginare che la farmacia possa diventare un vero e proprio presidio per i cittadini dove espletare analisi semplici del tipo elettrocardiogramma, oltre cardioco, oltre pressorio, spirometria. In questo caso le farmacie cardioprotette assicurano un punto di primo soccorso importante per evitare che vi sia l'esito finale negativo. E quindi in questo una condizione meritoria dei farmacisti, delle farmacie, della rete del 118 che è immaginato con il professor Balzarelli di mettere in campo tutto questo che diventa fruibile per il popolo tarantino pugliese e si spera il più presto nazionale. A Bari iniziano ufficialmente le celebrazioni per San Nicola, i resti linei della cassetta della traslazione sono stati portati in processione tra i vicoli della città vecchia. Il Santissimo Corpo di San Nicola, confessore di Gesù Cristo, fu dunque portato via dalla città di Mira il 20 aprile. Il 9 maggio, di domenica al tramonto, fu traslato a Bari. Correva l'anno dell'Incarnazione del Signore, 1087. Così Niceforo, autore di una delle fonti narrative della traslazione di San Nicola, descrive l'impresa compiuta da 62 marinai baresi che portarono le reliquie del Santo da Mira a Bari. Ricordando quest'antica narrazione, anche quest'anno ha preso vita alla processione dei resti linei della cassetta della traslazione che apre ufficialmente la festa di San Nicola di Bari. Una fede che si rinnova, che si rinnova fortemente nel segno di San Nicola che è grazie alla presenza di padre Moses, noi lo possiamo testimoniare, nel segno di San Nicola che è un ponte di unione tra Oriente e Occidente cristiani. Tantissimi fedeli turisti che ogni anno partecipano al corteo che accompagnato dall'incessante battere dei tamburi si snoda nei vicoli più antichi della città. Parenti dove abitano lontano, se ne vengono tutti nel borgo antico proprio per vedere San Nicola. Il re sono qua 4-5 giorni finché finisce la festa di San Nicola. Comunque partecipano tutti alla festa di San Nicola ti commuove San Nicola, è la cosa più bella che sta, bella, bella proprio. Passiamo ora allo sport, il calcio. Partiamo dalla Serie A sconfitta per il Lecce in trasferta contro il Milan. I giallorossi hanno perso per 2-0 sul Prato di San Siro. Si tratta della settima sconfitta nelle ultime otto partite. Primo tempo combattuto con il Lecce che è riuscito a frenare l'avanzata del Milan coprendo bene ogni spazio. Risultato sbloccato dal Milan solo al quarantesimo con la rete di Leao dopo un calcio d'angolo. Il raddoppio è arrivato al 74esimo, sempre a firma di Leao. E continuiamo con il calcio. Il campionato di Serie B, importante vittoria in trasferta per il Bari. I biancorossi superano in rimonta 2-1 il Pisa. Sentiamo. Un gol sul rigore al novantesimo di Antenucci regala al Bari una vittoria sofferta e meritata sul campo del Pisa. 2-1 il finale in favore di biancorossi, già matematicamente è play-off, ma che ora consolidano il terzo posto a più sette sul Sud Tirol. La promozione diretta, invece, dista sempre sei lunghezze, vale a dire la distanza che separa il Bari dal secondo posto occupato dal Genoa. Oltre a Maiello e Schedler, Mignani è costretto a rinunciare anche a Foloruncio. L'allenatore del Bari cambia quindi modulo, inserendo Bellomo a centrocampo e Morachioli in attacco per un inedito 4-3-3. Il tecnico del Pisa, D'Angelo, risponde con il 4-3-1-2, con le novità Hermanson in difesa e Sibilli a centrocampo. Sono gli ospiti a fare la partita fin dai primi minuti di gioco. Dopo i primi assalti, Bellomo, Morachioli e Chedira orchestrano un contropiede letale. Ne fa le spese Noci, che commette fallo da ultimo uomo sull'attaccante marocchino. Rosso diretto e Pisa in dieci dopo appena 12 minuti di gioco. Al diciottesimo però sono i padroni di casa a passare sul rigore con Torregrossa. L'attaccante nero azzurro trasforma un penalty che si era procurato poco prima dopo una leggerezza di mazzotta. Il Bari replica al trentasettesimo. Cross di un incontenibile Morachioli, testa di Esposito e punteggio di nuovo in parità, 1-1. Per l'attaccante di proprietà dell'Inter si tratta della terza rete messa a segno in biancorosso. Nella ripresa lo stesso Esposito, al 59esimo, lascia il posto a Mirko Antenucci. Pochi secondi dopo il 7 biancorosso libera Chedira in aria. Nicolas ci mette una pezza. Al settantottesimo ci prova Puccino da fuori, salva ancora il portiere del Pisa. All'ottantesimo Morachioli mette in mostra anche il destro, ma la sua conclusione sorvola la traversa. L'ala ex Renate trova però lo spiraglio giusto a due minuti dal novantesimo. Il suo tiro viene rispinto dal braccio largo di Caracciolo. Dopo il check bar, il signor Colombo assegna il rigore al Bari. Dagli 11 metri Antenucci è glaciale e mette la palla sotto l'incrocio dei pali per il 2-1 finale a favore dei Galletti. Il Bari spicca il volo per i play-off senza rinunciare al duello a distanza per la promozione diretta con il Genoa. A quattro giornate dal termine, con lo scontro diretto in programma al Ferraris nell'ultima partita della regular season, i giochi non sono ancora chiusi. E ora la sintesi della Serie C. Sarà derby Lucano tra Potenza e Picerno per il primo turno dei play-off di Serie C del Girone C. Sentiamo. Cala il sipario sulla stagione regolare di Serie C e nel Girone C la classifica dice che il Potenza e il Picerno si sfideranno nel primo appuntamento dei play-off per aver chiuso al nono posto il rosso-blu di Mr. Raffaele e al sesto i Melandrini. Nell'ultimo turno, infatti, il Picerno è stato fermato sul 3-0 in casa contro il Pescara, anche se la gara più ostica sulla carta era quella del Potenza che ospitava i dominatori del Girone. Il Catanzaro schiercia sassi di Mr. Vivarini che si è giudicato la vittoria del Girone C dopo una indiscutibile e indomabile cavalcata che li ha portati alla matematica promozione in Serie B con ben 5 giornate in anticipo. Partita subito da ritmi altissimi e con numerose occasioni da rete, si parte al quarto con un contropiede del Potenza con Talia che, lanciato da Murano, si invola solo verso la porta ma perde il passo incredibilmente solo contro Sala a calciafori. Dodicesimo vantaggio del Potenza meritatissimo con Murano. La conclusione di Volpe dal limite subisce una deviazione di testa da Gatti. La sfera assume una traiettoria che Sala con un gran colpo di Reni e è bravo a deviare sulla traversa. Sul rimbalzo è però l'esto Murano che di testa sigla il gol del vantaggio dei patroni di casa. Ventissimo si rivede in avanti il Catanzaro con Iemmello che prova la conclusione al volo. La palla potente finisce alta. Al trentaseisimo arriva il raddoppio del Potenza ancora con Murano. Inizia l'azione Volpe che, conquistata la sfera al centro campo, si invola verso l'aria. Giunto al limite la consegna sul lato corto a Caturano che la passa in mezzo per Murano. Il numero 27 la controlla benissimo piazzandosi con il corpo verso la porta. Da lì la conclusione a fil di palo per il doppio vantaggio dei rosso-blu. Al minuto 50 il Catanzaro però costruisce un'ottima azione che porta Cazzeris a servire la palla attesa in raso terra nel cuore dell'area di rigore per Iemmello che a due passi dalla porta sigla il 2-1. Per il capocannoniere del girone la rete numero 28 in stagione e guaiando così De Florio nel record di reti della categoria. Minuto 59 nel miglior momento del Catanzaro arriva il 3-1 del Potenza. La rete, la sigla del Pinto e Caturano che serve la palla in aria per la corrente numero 6 dei patroni di casa che è bravissimo nello stretto a passare tra due avversari con un dribbling e mettere la palla alle spalle di Sala. Gara ricca di reti e infatti a 67esimo accorcia nuovamente le distanze il Catanzaro con Sunas che dal limite prende la mira e mette la palla con una precisione chirurgica alle spalle di Gasparini per il provvisorio 3-2. Finisce così la stagione regolamentare del campionato di Serie C Giro N.C. ma adesso occhi puntati sui play-off e sul derby tutto Lucano tra Potenza e Picerno. Per il momento ci fermiamo qui, questa era l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e a tutti una buona giornata.